ragazzi mi sa che stavolta l'ho combinata veramente grossa qualche settimana fa parlando con matteo un ragazzo che mi segue su instagram youtube e telegram cosa che dovreste fare anche voi sono venuto a conoscenza del fatto che lui si voleva liberare delle sue carte e io come buon rivenditore non le ho acquistate tutte detto questo considerando che è stato lui a chiedermi di realizzare questo video andrei subito a spacchettare o ad unboxare sarà un po difficile farvi vedere tutto perché effettivamente lo scatolone è enorme e le carte sono una quintalata quindi adesso vediamo cosa riesco a fare so di alcune cose che ci sono dentro ma altre sono totalmente inaspettate ma detto che sarà diciamo una sorpresa ma staremo a vedere oh mio dio allora tiriamo fuori un po' la roba altrimenti qua non ne esco più siamo a quattro cinque sei al no raga c'avevo gli album de asce perché a questi sono daviscia penale o per i feticisti allora poi mucchi dei comuni credo no raga ci metteremo una vita a vedere tutto cioè io gli ho detto basta che non si rovinano non che danno anche dei pacchetti di pokemon no raga oh mio dio e io tutta sta roba dovrò caricarla sul market ma non finisce più qua ah ho beccato il fondo oh c'è gamma grazie mi serviva mi serviva gamma vabbè che lo reprintano pure adesso però è sempre ben accetto un gamma ci sono anche delle robe di pokemon vabbè qualcosa lo sapevo qualcosa no altro pacchettino qua è ok credo di aver tirato fuori tutto ragazzi voglio farvi capire un po' come è la situazione attuale perché qua è problematica la situazione adesso apro un attimo i pacchettini piccoli e tiro fuori la roba più interessante perché sennò qua facciamo mattina raga qua ho preso le carte buone diciamo che le pseudo buone le ho lasciate ancora da parte perché sennò veniva un video di sole comuni adesso vado veloce perché abbiamo cinque album qua da aprire vabbè andiamo veloce sennò non finiamo più allora abbiamo le spade il gamma cosac un sincro il sincro fedele prigione vabbè roba molto random però comunque molto utile a sto giudizio cazzo questa che mi serviva il pilota con un gamma solo se c'erano altri due gamma potevano essere utili poi vabbè qua tutte comunacce questa di lpp collecting che ce n'è pure un'altra poi poi va bello la sirena tune ultra però mi ha detto che è playhead quindi un po' not stonx questi polveri questo questo sto cardinale da pack sfortunatamente con un angolo che c'è che d'uso troppo poco mamma mia poi abbiamo rettigri un altro cardinale da pack sperando che sì questo è messo meglio cazzo questo da blar questo pure questo sfondato questo super urso pelliccia spavento foil questo francesco c'è se fa le seghe sopra questa roba super un'altra carta di lpp collecting poi un po' di scontro gozen fango drago anche questa non è male ho già matrio trappolatrice vabbè c107 due playades e poi per il resto mi sembra roba ah sta chimera che tipo me l'avessi mandata tipo 20 giorni fa poteva essere uno stonx enorme poi vabbè questi vendicatori foil dove francesco ci si fa la seconda sega e poi boh roba molto random sto riciclatore beh è bello da mago e poi un po' di roba da topt e gli anelli della distruzione vabbè ma ragazzi non è questa la roba importante facciamo un piccolo intermezzo con roba di pokemon con questi due pacchetti di evoluzione che dovevano accompagnare il terzo che non so che fine abbia fatto ma vabbè uscirà prima o poi insieme poi a della roba ocg e tgg tra cui nia un po' di roba foil vabbè vaporeon espion vaporeon vimax jolteon sylveon due glaceon altro questo due di queste roba di cui non ricordo assolutamente il nome però rimane comunque roba carina questi zoroark questi vabbè noctile mi sembra si chiami due raich questo non me lo ricordo entei entei vabbè diciamo che non mi aveva detto che ci fosse tutta questa roba di pokemon comunque lo ringrazio tantissimo perché è un regalo inaspettato passiamo adesso alla roba che sta negli album allora partiamo da questo che sembra quello un po' sfigatello e vediamo se c'è qualcosa di effettivamente buono allora qua per adesso niente carino questo corno però sfondato inferno di barrier ma c'è due secret due allarme intruso cammino ultra carino e niente effettivamente sì abbiamo preso l'album sfigato vabbè ce li faremo con quello dopo probabilmente carino l'avvertimento e il giudizio poi abbiamo tre compulsori che comunque non sono mai abbastanza carino iron wall che comunque fa sempre comodo come carta staple decide ma passiamo adesso al secondo album che secondo me potrebbe dare qualche gioia in più allora andiamo a vedere drago furtivo galattico ignister la valva roba da mv altra roba da mv silver gadget apple magician girl fino a qua tutto standard niente di troppo particolare carino questo cavaliere gemma perla congegno oro e altra carta da denuncia poi abbiamo numero 49 uh bellissimo questo numero f0 carino mai visto dal vivo carino sono contento di averci poi poi abbiamo qua roba abbastanza standard è carino il camaleonte seggia sequoia carino poi qua altra roba sempre da movie pack uh bellissimo il coniglio ma questo non c'era tra la roba che mi aveva mandato o c'era e l'avevo valutato boh carinissimo bello bello adesso se c'è pure il serpente sarebbe uno stonks enorme perché c'è quasi tutto danger poi altra roba da movie pack la mano numero 3 a sto ciclone cosmico che non me ne privo profeta cristallo che dovrebbe essere americano bellissimo spero sia minta poi la gugingi lepre e qua belle terraforming da duov dedizione spero che sia minta almeno la metto in collezione butta fuori colpo fotonico ce n'è due poi abbiamo sto numero 10 che è falso come il 99 a tombola roba standard niente di particolare numero 17 dragone di etano molto carino molto carino tanta roba poi vabbè numero 51 74 e vabbè qua niente di particolare bene non mi posso lamentare carino come acquisto ma adesso passiamo al terzo che probabilmente adesso ci avviciniamo alla roba più gustosa probabilmente insieme beccherò anche una demonetizzazione a questo video a causa dei piedini di Ash ma vabbè dettagli poi abbiamo Kakotsuchi in seconda poi numero 53 sempre in seconda sfondato poi vabbè roba magi dolce il matematico testa lo sketch carino fosse stato Raiza mi sarei fatto una sega poi abbiamo il BLS necrosof gunir di Sece molto carino poi abbiamo un Kokimero Ultimate che sembra minta speriamo poi Araldo Pantera Naturia Barchion Cidemone e vabbè il Gaia poi vediamo qua roba molto random Gandalf e niente di particolare solo solo abbiamo qua uno Spellstone Sorcer che è americano non è male e penso che qua abbiamo concluso è stato un po' come una scopata quando si è citato è veloce e non dura niente andiamo adesso al quarto e vediamo cosa c'è abbiamo zanna d'argento dall'ed in prima molto carino stessa cosa la tredicesima tomba Puribo peccato che è sfondato ma vabbè fosse stato in prima penso che avrei pianto abbiamo l'ed RP e qua roba super random niente di particolare tranquilli ragazzi che fra un po' arriveranno le bombe allora qua si tanta roba super carina questa spada leggendaria l'elettroflust e l'energia oscura però è tutta roba in seconda e niente qua è tutta roba abbastanza standard come non detto qua abbiamo una gamba sinistra del proibito carina poi abbiamo il pilota ultra bellissimo omega poi abbiamo altre due carte di LPP spero che qua ci siano i gamma perché nel caso posso stavo per dire che potevo segarmi ma invece sono tutti i piloti e poi qua come ultima abbiamo roba da blar molto carina numero 4 3 3 2 no ma voglio piangere in prima sembra che hai cascato in acqua no fra sei un animale passiamo oltre e dimentichiamoci di quello che abbiamo appena visto passiamo al prossimo album e vediamo qua cosa abbiamo allora abbiamo un altro gunir sei per angelo da chini e poi vabbè qua roba molto normale numero 75 da ecs ovviamente guardate guardatelo che bello scritte cs lì lo rende tipo molto più appetibile poi numero 50 106 cowboy da ct roba random da blar stick house neos che sono di una stampa che non vale assolutamente niente poi abbiamo golem multi pezzi sei per drago gemello purgatorio o caliga scarafaggio branco acciaio elisium e poi per il resto una rosa nera drago alinere da ristampa due guardiani goi drago polvere di stelle cavaliere dragunità varagliana e per il resto boh roba molto molto normale abbiamo zero robot topologico in due per poi salamagna lupo ma niente di troppo rilevante roba abbastanza tranquilla passiamo al penultimo album e qua iniziano le cose interessanti tra cui distruttore cosmo entrap varie tra cui questa bellissima bell in monocopia voglio piangere perché me ne manca una ancora poi roba random poi orso bianco corazzato roba sfondata abbiamo due maghi gagaga distrutti uroland poi ultra a caso di stampe varie guardiamo c'è il ticori addestrato e vabbè vedete anche voi carino questo drago nero in prima edizione però ovviamente ah ma guarda è messo meglio del mio questo andrà in collezione mh beh non lo so poi vediamo andiamo alla penultima abbiamo uno llamado da mp mezzuki candina americana lynx dryer americano questo coniglio spero no solo licorice americana in monocopia ok il pacchetto mancante e questo polvere bellissimo da ct che non voglio guardarlo sul back perché spero non sia rovinato infatti è poco rovinato quindi stones benissimo adesso ragazzi prima di passare all'ultimo album voglio farvi vedere due pacchetti che erano all'interno dell'otto ovvero bam potere della polvere di stelle allora probabilmente non c'è niente dentro e sicuramente non c'è la ghost molto probabilmente sono stati già pesati e dentro non c'è niente però cazzo potrebbe esserci anche la ghost e per concludere andiamo con l'ultimo album sempre di hash e qua abbiamo vabbè dei feel center roba random e poi bam il drago tu un occhi blu in prima la maga nera secret da mfc e il drago rosa nera in prima edizione in inglese adesso non voglio tirarle fuori ma queste sono ex questa è good perché c'ha una leggerissima piega dietro l'intravede leggermente anche da davanti però però vabbè me la faccio andare bene girando poi abbiamo un best ingranaggio antico ultimate inglese in seconda e due golem ingranaggio antico in inglese peccato che sono abbastanza rovinati però vabbè sono comunque dei golem ingranaggio antico ve ne tiro fuori uno almeno così vedete meglio perché cioè sono carte che meritano andando avanti abbiamo un numero 92 ultimate e numero 9 tutti e due in seconda peccato poi abbiamo questo drago bianco occhi blu che credo sia in americano perché c'è una fogliatura un po' strana e questa maganeratun da sp2 molto carina ultra vediamo se c'è rimasto qualcos'altro ma credo che ormai siamo arrivati alla frutta e vabbè abbiamo queste ultime cartine niente di troppo rilevante crignuria monerraviel e però penso che con questo abbiamo concluso quindi ragazzi diciamo che posso ritenermi soddisfatto ho fatto anche un bel acquisto diciamo che nel mucchio c'è roba molto interessante detto questo vi ricordo come sempre di scrivervi e mettere mi piace e ovviamente di passare qua sotto in descrizione che potete trovare tutti i miei social per seguirmi ovunque ovviamente anche twitch dove una volta a settimana streamo quindi ragazzi state mi easy e noi ci rivediamo settimana prossima sempre qua con un nuovo video ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti